Un blocco di navigazione con elementi che possono essere espansi o richiusi, aiuta a navigare facilmente attraverso il sito oppure i propri corsi. Il blocco navigazione, come tutti i blocchi, può essere trasferito in un'area laterale per dare meno fastidio, facendo clic sul quadratino centrale. Si dice che lo spostiamo nel doc, ed eccolo qui, per riportarlo di là, ancora clic. Il blocco impostazioni, invece, consente di modificare elementi del sito o del proprio corso in modo facile e veloce. Anche in questo caso possiamo spostare nel doc. Il blocco impostazioni è contestuale, quindi cambia a seconda del luogo in cui ci troviamo. Se siamo dentro all'area del corso, ci verranno proposte tutte le impostazioni del corso. Se siamo all'interno di un'attività, di una pagina, quindi di una risorsa, le impostazioni sono relative a quella risorsa o attività.